Musica Buonasera a tutti amici sportivi dal palazzetto dello sport di Castelletto Ticino appena finita la partita tra Onnavasso e Modena con un monumento del volley femminile italiano, Cardullo, ciao! Ciao a tutti, buonasera, è stata una bella partita sicuramente, penso che ci sia stata un po' di suspense penso che chi stasera era al palazzetto si sia divertito, cosa dire? Te lo dico io, ti ho rivisto con me 15 anni fa No, no, ancora no, diciamo che c'è ancora tempo, ho ripreso comunque da un paio di mesi e superire a un anno e mezzo di inattività insomma ce ne vuole, per ora io credo di aver imboccato la strada giusta, poi per arrivare ci sarà ancora tempo, è lunga ancora Complimenti comunque, gran partita, punto a punto, ha vinto poi una serie di episodi e forse la testa Ma probabilmente sì, forse un pochino più di lucidità, forse nei momenti importanti dove appunto si era punto a punto e questo forse sì, loro hanno fatto qualche errore di troppo magari in quei momenti, noi ne abbiamo fatti moltissimi in altri momenti, però è la prima partita della stagione, credo che queste siano tutte cose che in questo momento sono da mettere in conto più avanti ci si auguro che non sia più così Grazie mille, in bocca al lupo per il proseguo, ciao Grazie, ciao Proseguiamo il nostro giro di interviste con Igic, come hai visto questa partita? Hai giocato intensamente? Siamo entrate troppo, secondo me, impaurite, magari dalla prima partita in A1 comunque e quello ci è costato il primo set che abbiamo giocato malino poi abbiamo sbagliato troppo, non è da noi secondo me, dovremmo migliorarlo durante la stagione sicuramente Avevate anche in mano la palla per il match? Succede, non è che mi ricordo cos'era successo così, però era tirato, anche loro giocano poi Comunque l'impressione che davate all'inizio del campionato, o meglio quando facevate le amichevoli direi che si è mantenuta, cioè voi siete una squadra che darete molto fastidio anche alle grandi Sì, perché giochiamo tanto sulla difesa, secondo me, giochiamo tanto sulla difesa, sì, per quello Ecco, però avete sofferto molto la loro altezza, la loro fisicità Sì, può essere in alcuni momenti, sono brave a muro secondo me loro e poi dipendono, in altra parte c'è una Cardullo e dovete guardare anche quelle cose lì Anche se forse chi vi ha messo più in difficoltà, soprattutto alla fine, è stata Perrinelli Magari non ci aspettavamo, non lo so, non so cosa dire Vabbè, comunque è un punto sicuramente... Ci siamo forse preparate male per lei Voglio dire, comunque il punto che avete guadagnato questa sera, direi con una signora squadra Eh, infatti, infatti, Modena, non so, è tra le squadre più forti qua Allora aveva due monumenti della volley femminile italiano Una squadra ben organizzata, loro all'esordio, però secondo me Ornavasso ha fatto una gran partita e solo qualche episodio ha fatto la differenza, solo qualche episodio Eh, l'ho detto, abbiamo fatto tanti errori e quello ci ha costato, secondo me, anche la partita Potevamo anche portare tre punti a casa Siete andati molto vicini Grazie mille Sì, speriamo bene